Manalaria, 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 Manalaria. Ringraziamo il dottor Gratteri di essere qua, sempre nostro ospite, come dire, ben accolto da tanti ammiratori. Per questo le voglio fare subito una domanda. Innanzitutto auguri per questo nuovo incarico, lei adesso fa parte di questo organismo che è l'Organizzazione per la Sicurezza e per la Cooperazione Europea, l'OSCE, che aggruppa 57 paesi che si adoperano per garantire la sicurezza, come di tutti, la sicurezza interna ai paesi e internazionali. Quando lei andrà lì, non c'è andata ancora, il primo di luglio, va lì e dice, mi presento, vengo dall'Italia, che è un paese, come? Come ne la spiegherà che l'Italia è la Calabria? Da quale paese e da quale regione viene? Io mi auguro, essendo un organismo internazionale che non è andato ieri, mi auguro sappiano cos'è l'Italia, dov'è l'Italia e quali sono i problemi dell'Italia. Il mio compito, siccome intanto devo premettere che io ho accettato questo incarico, come per tutti i miei incarichi, di farlo gratuitamente e di... Ha una spiegazione questa, non è una fanaticheria, ha una spiegazione, farlo gratuitamente e poi non avere nessun veto, controllo, qualsiasi cosa io voglia dire o voglia scrivere. Questa è la condizione che metto sempre ogni qual volta mi si offre un incarico. Allora, facciamo una cosa, facciamo un accordo, se ritenete fate un applauso alla fine, se no mi interrompete continuamente e perdiamo tempo. Allora, io faccio il magistrato da 30 anni, se io questa sera sono qui e posso parlare di qualcosa è perché per 30 anni ho fatto il magistrato. Quindi io per 30 anni sono stato pagato con le vostre tasse. Allora, se io oggi devo parlare, posso parlare di qualcosa, non devo essere pagato perché sto parlando. Perché già io sono stato pagato per 30 anni con lo stipendio di magistrato, che è uno stipendio che consente una vita decorosa. E quindi non c'è bisogno, c'è gente che va a fare le commemorazioni dei morti, delle vittime di mafia, se vuole il gettone di presenza. Vi sembra etico, non disturba, non vi sentite un disagio dentro, voi per loro. C'è una cosa brutta, farsi pagare per parlare di lotta alla mafia. Allora, io insegno all'Università di Reggio Calabria, alla Scuola Interforzi a Roma, alla Scuola Internazionale a Caserta, sono consulente della Commissione Antimafia, di altre consulenze, ora questo è l'OSCE. Rinuncio alle ferie, utilizzo le ferie per fare queste cose o anche di pomeriggio per andare nelle scuole, perché ha un senso, cioè trasmettere la mia esperienza di magistrato e di uomo al servizio della collettività, senza nessun rimborso. Quando abbiamo fatto una commissione di riforma, noi ci siamo pagati il biglietto aereo, ci siamo pagati il ristorante, ma questo deve essere normale, perché noi dobbiamo allenarci, perché noi stiamo facendo qualcosa per la nostra nazione, per la nostra terra. Ora vado alla domanda. L'OSCE è un organismo estremamente complesso, voi immaginate mettere assieme 57 paesi del mondo e parlare di un tema, di un problema, solo mettere d'accordo gli Stati per mettere all'ordine del giorno quale tema? Quello del terrorismo? Quello dell'immigrazione? Che può creare poi sicurezza? Quello delle mafie? Quello del riciclaggio? Quello della corruzione? Questi sono i temi dei quali si interessa l'OSCE. È ovvio che io non ho la banchetta magica, io ovviamente trasmetterò tutte quelle che sono le mie conoscenze, darò tutto me stesso, è ovvio, come tutte le cose, però non vi aspettate la banchetta magica, c'è una grande occasione, perché l'Italia l'anno prossimo presiede l'OSCE. Quindi noi dovremo, saremo capofila e dovremo dare un indirizzo, un impulso, poi per l'anno successivo, mettere sul tappeto all'ordine del giorno i temi e quindi anche le proposte. È ovvio che io non è che parto da zero, io ho già delle proposte, degli articolati, ho già le mie idee sull'immigrazione o sul terrorismo, sul contrasto delle mafie, sul narcotraffico, sulla soluzione dei problemi relativamente alla produzione al traffico di cocaina o di eroina, la mia sulla legalizzazione delle droghe leggere è un argomento del quale si parla tanto, io ogni tanto ironizzando con amarezza, quando incontro parlamentari, dico certo che questa della legalizzazione delle droghe è la mamma di tutti i problemi in Parlamento e certo ovviamente tra tutte le cose le quali dovete discutere, mi raccomando fate presto perché è una cosa importante, senza la legalizzazione della Mariana non riusciremo ad andare avanti in Italia. Allora il libro è pieno di notizie, è pieno di storie, è pieno di documenti, è pieno di una documentazione molto fitta, ringrazio gli autori per aver fatto un lavoro così vasto, prendendo testi dimenticati, piccoli testi magari storici minori, legandoli con un costrutto che tento di definire in maniera banale, la verità che l'andrangheta è andrangheta per il suo rapporto col potere e non è una cosa che abbiamo scoperto oggi, ieri, l'altro ieri con l'arresto di un consigliere regionale o di un sindaco o di un deputato nazionale, è una cosa che risale, la data da cui parte il racconto, lo chiamo racconto perché è un bellissimo racconto, è all'indomani dell'unità d'Italia, dove la presenza dell'andrangheta nei comuni, fino ad altissimi livelli, è pervasiva. Perché per tanto tempo questa realtà che era già sotto gli occhi di tutti è stata negata? Cancellata, rimossa, un'amminazza memoria proprio, non si deve dire. Allora noi abbiamo scritto questo libro, questo è l'undicesimo, poi il dodicesimo è l'altro, quello con Raieri. Questo libro è come l'anello di Darwin. Noi abbiamo sempre detto, le mafie sono nate con l'unità d'Italia, punto, cioè dando per assodato, per certo, ma senza una prova scientifica, senza una prova storica. E siccome noi quando scriviamo libri col professore Nicasso partiamo sempre dagli archivi di Stato, in particolare dall'archivio di Stato di Reggio Calabria, gli archivi di Stato ha i più luoghi sconosciuti, perché purtroppo ai noi non solo le tesi si copiono da internet, ma anche i libri saggi, sono autori importanti che copiono da internet, che poco copiono da Wikipedia. E questa è una vergogna, no? È una cosa che uno dovrebbe avere pudore, rossore, non uscire di casa, quando uno viene beccato con le mani alla marmellata, che è andato a copiare da Wikipedia. Però c'è gente che gli sembra che è una cosa normale. Da qualche altro libro. Beh, è una cosa normale, non è etico, però andiamo poi a parlare di legalità, no? E allora ho detto, dobbiamo trovare, dobbiamo capire perché nell'Ottocento, nel Settecento, nella prima metà dell'Ottocento, in Europa, in Francia, in Inghilterra, in Germania, c'erano i ladri di polli. Perché in Italia i ladri di polli si sono poi trasformati in picciotteria e poi in mafie. E quindi in Drangheta, in Camorra, cosa nostra. E allora siamo andati a trovare, a cercare dei documenti per capire, per mettere dei punti, per capire degli episodi. E abbiamo trovato, nelle elezioni, la nostra attenzione è andata a finire sulle elezioni comunali di Reggio Calabria, 1869. Cosa scopriamo? C'erano due liste, una appoggiata dalla Chiesa e dai Borboni, un'altra appoggiata dai latifondisti, dall'aristocrazia, dall'alta borghesia regina. A un certo punto, gli aristocratici di Reggio Calabria assoldano dei ladri di polli, assoldano De Stefano Francesco, avo degli attuali De Stefano, che comandano da Reggio Centro ad Archie. E gli dicono, tu devi picchiare, spaventare, minacciare i candidati della lista appoggiata dalla Chiesa e dai Borboni e devi minacciare quelli che vanno a votare. Pensate che anche il questore dell'epoca gli ha dato una mano, perché il questore, siccome era possibile la carcerazione preventiva, quelli che sapevano che non votavano per la lista capeggiata dall'aristocrazia, li incarcerava. Finite le elezioni, li ha liberati. Sono stati talmente tanti i brogli che il prefetto è stato costretto ad annullare l'elezione a Reggio Calabria. E allora, voi pensate, pensate questo, allora non esistevano le regioni, non c'era il reato di assoluzione di inquistato mafioso, non c'era la legge per lo scioglimento dei comuni, eppure erano stati tali e tanti che il comune è stato sciolto. Poi, questo è quindi un grande episodio, il primo comune in Italia sciolto, annullate le elezioni e è la prima volta che accadeva in Italia e questo non è bastato per incominciare a capire da parte del governo centrale. Terremoto del 1908, il governo centrale manda a Reggio Calabria, c'è stato un terremoto dove sono morti 100.000 persone, il governo centrale manda 180 miliardi di lire, 180 miliardi di lire, una somma, in questa piazza non c'entrano, 180 miliardi di lire. Allora, non esistevano le regioni, perché voi, mentre io parlo, voi andate a quel periodo storico per facilitare la comprensione, allora cosa fa? Arrivano questi soldi, il potere centrale, anziché amministrarli, li dà in gestione a quella classe dirigente di Reggio Calabria, dandogli il compito, tu tieni buono il popolo, in cambio ti gestisci 170 miliardi di lire. E sapete cosa è accaduto? E' accaduto, se voi ci pensate, questa è la prima legge del governo centrale per il meridione, per il sud, dove in modo sistematico e scientifico si dà alle popolazioni il pesce e non la canna da pesca, se voi ci pensate, cioè io ti do i soldi, ma non ti do gli strumenti per operare o per ricostruire. E in cosa è consistito? Guardate come è stato fatto il marchigegno per arricchire la picciotteria dell'epoca, cioè chi ha subito un terremoto aveva solo addosso gli indumenti impolverati, non aveva nient'altro, aveva perso tutto, eppure per accedere al contributo, per ricostruirsi la casa, bisognava avere il 30% dei soldi che servivano a costruire la casa. E gli dice come faccio? Ci ha pensato la picciotteria, ci hanno pensato questi signori che con un tasso suraia, tu non ti preoccupare, noi ti diamo i soldi, partecipi per avere poi la rimanente somma per la costruzione della casa e in cambio poi mi dai, mi restituisci il 30% con gli interessi. In quegli anni, voi oggi vi scandalizzate, noi oggi ci scandalizziamo per il voto di scambio, cioè ci scandalizziamo che i politici, che i candidati politici, comunali, provinciali, regionali, nazionali, vanno a chiedere i voti ai mafiosi. Ma voi non sapete cosa abbiamo scoperto? Noi abbiamo scoperto delle lettere scritte a mano da senatore della Repubblica, su carta intestata del Senato, con i ringraziamenti da parte del senatore eletto al picciotto collettore di voti e questo è passato come acqua fresca. Dopo che noi abbiamo scritto queste cose in questo libro, noi ci aspettavamo che al Comune di Reggio Calabria la prima cosa era cancellare le vie di questi senatori, togliere le statue nelle piazze di questi senatori. Non è successo nulla, acqua fresca. Questa è la suefazione, la mancanza di sensibilità del potere politico di oggi per cose gravissime. C'è una città intera di Reggio Calabria che dedica una piazza, piazza Camagna, non so se avete sentito parlare qualche volta. Il senatore Camagna di suo pugno scrive e ringrazia i picciotti che lo hanno votato e fatto votare. Il senatore Tripepi di Reggio Calabria, questo è quello che accadeva all'inizio del Novecento. Quindi non è oggi il degrado, il decadimento morale o etico, parte da molto lontano. Ma lei l'altro giorno alla Commissione Antimafia ha detto, non so se ho letto bene o se è stato malinterpretato, è finita la ricreazione per le istituzioni pubbliche. È una battuta. Vabbè, però insomma è una battuta, dice perché è finita adesso? Perché siamo arrivati a un momento di rottura? Perché c'è lei? Perché? Ma ovviamente come tutte le frasi, se decontestualizzate sono una fanaticheria. Se contestualizzate era una battuta. Io sono a Catanzaro da un anno e quando sono arrivato vi dico la verità, soprattutto sul piano psicologico ho visto un martorio. Sembrava che c'era il morto nella stanza, facci tristi, facci preoccupate, visi spenti. Eppure ci sono ragazzi di 30 anni che dovrebbero... Parlo dell'ufficio e della procura. Parlo dell'ufficio, certo è ovvio. Una polizia giudiziaria brava, preparata, ma un po' così sfiduciata. Cioè gli stessi uomini con i quali lavoravo a Reggio Calabria partivano da Catanzaro a lavorare con me a Reggio Calabria. Quando venivano a trovarmi in ufficio a Catanzaro venivano con un'altra prospettiva, cioè forse con un'altra aspirazione dicendo forse qua non ce la facciamo dottore, capito? Quindi questo era lo stato d'aneo. Quindi io in un anno ho dovuto soprattutto ricostruire il piano psicologico dell'ufficio, non nella preparazione tecnico-giuridica. Perché il mio ufficio, grazie a Dio, il 99,9% delle persone sono uno più preparato dell'altro, gente preparatissima. Io ci sono 5-6 colleghi che lavorano anche sabato e domenica. La mattina entro le 8 e mezza sono tutti in ufficio, fino alla sera sono in ufficio. Ma abbiamo fatto questa trasformazione in quest'anno. Quindi come ufficio mi sento molto carico. Ora il 2 novembre arriveranno altri 6 sostituti più un procuratore aggiunto che arriverà intorno a ottobre, 12 giudici al tribunale. Quindi incominciamo a vedere il futuro di questo distretto in modo diverso. Non dico con un filo di ottimismo, ma di realismo. E poi oggi abbiamo una polizia giudiziaria nel distretto di Catanzaro di altissimo livello di primissimo piano, che negli anni passati non avevate. Perché ogni settimana, io adesso sto tornando da Roma, vado col cappello in mano in tutti gli uffici di Roma, al comando generale dei carabinieri, dalla guardia di finanza, stamattina ero col capo della polizia, vado al ministero della giustizia, stamattina ero col ministro e col capo di gabinetto. Non avevamo gli occhi per piangere a Catanzaro. Io gli ho cambiato il computer a tutti, stampanti, scanner, hanno tutto ora. Non c'era niente. Anche questi aiutano sul piano psicologico. Ora sto facendo il capomastro, sto facendo il muratore, l'architetto. Mi arrivano sei magistrati e non so dove metterle, quindi sto cercando di spostare stanze sotto al piano terra, vado al presidente di cortapello, mi servono due stanze. Questo sto facendo. In un anno i risultati ci sono stati. In un anno siamo riusciti, oltre a questo, siamo riusciti ad avere, c'era un ospedale militare, che era un vecchio, un convento del 600, un ospedale militare chiuso da dieci anni. Allora, il giorno in cui mi sono insediato a Catanzaro, ovviamente il bon ton cosa vuole? Che uno si metta a saluta le autorità, incomincia da questo, da questo, da questo, ringrazio. Siccome io sono leggermente scostumato e irriverente al potere, ho detto, ma che faccio qua? Per mezz'ora è qua a salutare tutti. Siete che faccio? Ho detto, lancio una bomba a mano sul tavolo, vediamo che succede. E dico, qua di fronte, siccome paghiamo ogni anno un milione e ottocentomila euro di fitto, nei palazzi che vanno attorno a Piazza Falcone e Borsellino, che poi non è che sono un milione e ottocentomila euro che vengono distribuiti nella città. Chiaro? E allora dico, ma perché quel palazzo è chiuso? Perché non facciamo la procura lì? Ma c'è qualcuno di voi che non è d'accordo? Pare che ci sia uno magistrato per gli usi civici che non vuole o c'è un comitato qui nella città che vogliono fare un centro culturale. Ma a Catanzaro ci sono tre teatri chiusi, ci sono quattro cinema chiusi e giusto là dovete fare il centro culturale, se volete fare il centro culturale c'è bisogno di farlo là. Ma c'è qualcosa sotto? O qualcuno vuole costruire un albergo? Cosa c'è? Ditemi, parlatemi. Questo è stato il mio esordio a Catanzaro. Il giorno dopo eravamo seduti attorno a un tavolo tutti e tutti erano d'accordo e si faceva gara a chi doveva firmare. Quindi doveva venire uno scostumato da Reggio Calabria, la provincia di Reggio Calabria a dire facciamo queste cose. Oggi già una società di Ancona si è giudicato l'appalto per il progetto, entro due mesi deve depostare il progetto e poi si farà la gara che in un anno e mezzo o due noi andremo lì a Catanzaro a lavorare in quella procura. E quindi migliorano le condizioni, anche gli spazi? Ma migliora anche la qualità della polizia giudiziaria. Forse non sapete che noi nelle quattro province adesso e dentro un mese, un mese e mezzo avremo, cosa mai successa, i primi dei corsi. I primi corsi di polizia, carabiniera e finanza sono in provincia di Catanzaro dove non voleva venire nessuno perché era perdente lavorare a Catanzaro, perché non si faceva carriera da Catanzaro, perché se tu non hai risultati, tu fai carriera se vai a Palermo, a Napoli, a Roma o a Milano, in altri posti hai difficoltà a fare carriera, quindi un primo corso che ti viene a Catanzaro e dici ma sei pazzo, dottore le voglio bene, siamo tanti amici però io non posso venire a Catanzaro. Ecco perché cosa serve, vi dicevo insegno alla scuola Interforze, alla scuola Interforze io incontro i tenenti colonnelli, quelli che devono diventare colonnelli, i primi dirigenti che devono diventare vicequestori e quindi li vedi, li pesi, li misuri, poi vai lì e li corteggi e gli dici vieni con me, investi, mettiti in discussione tre anni e poi diventerai colonnello e poi diventerai generale e infatti quest'anno molti sono stati promossi perché già in un anno. Per questo la recreazione è finita, perché adesso ci stiamo attrezzando, io penso che noi siamo all'aperitivo ancora di un pranzo. leggo oggi nella relazione della DNA, mi ha fatto pensare, non capisco se loro hanno copiato il suo libro, può succedere, può succedere, in ragione della sua capacità di contaminazione. L'andrangheta è dunque una minaccia per la stessa democrazia. Ma io le voglio fare una domanda un po' provocatoria. In realtà questo libro potrebbe dimostrare che la democrazia può convivere con tutto questo, faticosamente, indebolita, dimezzata, ma può convivere. Sì, sono d'accordo con lei. Sa perché sono d'accordo? Perché l'andrangheta non è stata mai all'opposizione, l'andrangheta non è stata mai antistato. L'andrangheta ha sempre cercato contatti, rapporti con l'uomo delle istituzioni, quindi convive con la democrazia, è improprio dire con la democrazia, però convive con questo sistema, con questo sistema attuale. Ha sempre convissuto. Cioè l'andrangheta ha sempre cercato contatti con una delle istituzioni. Anche addirittura c'è una, il Santista, che è una dote, che è la prima dote della società maggiore, che ha la doppia affiliazione, cioè nell'andrangheta e nella masoneria deviata, il Santista può anche fare il delatore, cioè l'informatore ufficiale del locale di andrangheta che può avere rapporti con le istituzioni, che può avere rapporti con le forze dell'ordine. Quindi questa sorta di cinghia di trasmissione tra il locale di andrangheta e le istituzioni. Quindi è codificata nel codice dell'andrangheta questo sistema. Quindi è una cosa che, dire la verità, abbiamo scritto dodici anni fa col professore Nicasso. La commissione lo dice quest'anno? Sì, poco fa, oggi è uscita, è stata presentata oggi. Non ho avuto tempo di leggere ancora. Dice anche appunto che l'andrangheta, e dice una cosa, però su questo, parlo della società civile, il risveglio, dice che dalla Sicilia, naturalmente i dati sono riferiti all'anno scorso, al 2016, la Sicilia insomma ci sono segnali positivi, nessun segnale di questo genere, non so se è testuale, si registra invece nelle terre dominate dall'andrangheta. E' come dire, non c'è società civile. Io, quando vedo questa piazza, non la vogliamo chiamare la società civile, ma credo che c'è tanta gente onesta che viene qua a sentire, a dire che ci sono. Perché si dice che in Calabria non c'è? E' una visione, questo è un grave errore, questo è una cosa che non condivide un grave errore. Guardi, i calabresi non sono mertosi, quasi sempre i calabresi non sanno con chi parlare, non riescono a trovare l'interlocutore, ma non sono mertosi. E le dico perché, da quando io sono a Catanzaro, una volta, due volte a settimana, come posso, faccio ricevimento, come se fossimo a scuola e vengono gli alunni. Ovviamente per ogni persona non do più di dieci minuti, perché vengono delle signore che mi vorrebbero raccontare la loro vita. Signora, il fatto, il fatto, lei oggi è qui per cosa? Cos'è successo? Capito? Però questo è importante, perché la gente ha bisogno di parlare, la gente non è omertosa. Guardi, certe cose non vi dovrei dire perché sembra un pavore stasera, ma guardate che vengono gente da tutta Italia, mi scrivono da tutta Italia che vogliono parlare, vengono a denunciarmi fatti reato di competenza di altre procure. E dico signora, ma vada da quel magistrato, vado da quel procuratore, no dottore, se ha fatto voi, sì, se non è, no signora, guardate che è bravo, è una persona per bene, gli telefoni io al collega, no giudici, non vi dispiacite, no? Questo è. Però l'altro giorno sono avuto due imprenditori dal Veneto, gli avevano rubato due capannoni del valore di un milione e mezzo di euro, loro sospettavano che queste erano in Calabria. Ci danno delle dritte, chiamo la guardia di finanza, perché il filo d'Arianna poteva essere, era un fatto contabile. In meno di 24 ore la finanza ha trovato questi due capannoni. Quando questa gente è venuta a prendersi col tiri, piangevano, cioè non credevano che eravamo riusciti a trovare queste cose. Queste sono cose importanti, perché servono alla nostra credibilità, alla nostra immagine. Anche noi abbiamo bisogno di pubblicità, anche l'Andrangheta ha bisogno di pubblicità. Quando l'Andrangheta, anche l'Andrangheta fa spot, lo fa con lo sport, lo fa facendosi vedere vicino a un prete, facendosi vedere vicino ad una persona importante, tutti abbiamo bisogno di pubblicità. Anche questo per noi è un recupero di credibilità, un recupero di immagine, una maggiore credibilità, perché io vi capisco quando molta gente non parla, perché noi, a dire la verità, noi calabri siamo un po' paranoici, è vero? Siamo un po' paranoici, siamo. Però questo lo posso dire io, perché ami in modo viscere alla Calabria, nessun altro se lo può permettere dal pollino in su, perché me lo mangio vivo. Però qua ce lo possiamo dire, siamo paranoici, cioè da un pelo facciamo una trave, vediamo due che parlano e loro stanno parlando di me, quindi si crea una tragedia, una tragedia. Però è possibile, esiste la corruttela all'interno della magistratura, delle forze dell'ordine, è inutile negarlo, però non è così diffusa come appare, non è così, ci sono le merce, le merce ovunque, dappertutto. Però io vi invito ad avere fiducia e noi cerchiamo di trasmettervi questa fiducia con i fatti, con i risultati. È ovvio che chi mangia è fabbriciole, non esiste l'indagine perfetta, non esiste il muratore che riesce a costruire una casa senza un difetto, quindi anche noi siamo esseri umani e possiamo sbagliare. Il problema, l'importante è capire se si sbaglia in buona fede o in mala fede. Fatto questo discrimine, però vi dico che tendenzialmente il livello qualitativo delle indagini, il nostro target sta aumentando, sta migliorando, ci stiamo affinando, stiamo cercando sempre assieme, ogni mattina di ragionare sulle cose. Io dico che potete incominciare a fidarvi di noi. Vengo alla mezzatepe non per parlare di vicende recenti, ma per parlare di un fatto del 3 luglio 1975, in cui il primo mercito eccellente, scrivete nel libro In Calabria, è quello del giudice Francesco Ferraino. Il resto d'Italia non se ne accorge. Io ricordo che nel 71 mi ha ucciso Scaglione, che è il procuratore di una grande città, ma se ne parlò per anni, anche se non si trovò mai ben definita la causa, si disse che era forse un corrotto, forse era ambiguo, forse era onesto, Scaglione. Ma fu un grande dibattito nazionale e politico. Francesco Ferraino viene ucciso appunto alla mezza terme, in questo corso, il 3 luglio 1975, tutto passa nel silenzio. Perché questa rimozione ancora una volta di un giudice, anche forse da parte dei stessi magistrati? Francesco Ferraino è il procuratore generale della corte d'appello di Catanzaro, che era l'unica corte d'appello della Calabria. Quindi aveva competenza lui dalla punta dello stivale, dal lungomare di Reggio Calabria fino al Pollino. Ma non è solo il solo omicidio eccellente del quale non si parla, ma questa è soprattutto colpa degli uomini di cultura, è soprattutto colpa degli scrittori, dei giornalisti, che non hanno avuto la forza di raccontare. Cioè, voi immaginate agli anni 70 la Calabria è stata sempre marginale. Perché intanto noi contiamo poco perché abbiamo una densità di popolazione bassissima, noi siamo meglio di due milioni. due milioni sono un quarto di Milano e noi siamo tutta la Calabria, quindi abbiamo poco peso specifico, pensiamo poco nel panorama nazionale, sul piano politico, sul piano elettorale, due milioni di persone, cosa vuoi che siano, sul panorama nazionale, su 64 milioni di abitanti. però c'è stata anche una pigrizia degli intellettuali calabresi, forse anche un po' di omertà degli intellettuali calabresi o degli scrittori calabresi a non approfondire ciò che accadeva anche negli anni 70, ma ancora prima. Ma anche una pigrizia anche da parte della Chiesa in quegli anni. Quando ho scritto il libro Acqua Santissima, noi abbiamo scoperto i primi martiri della Chiesa. Voi pensate che a Reggio Calabria due preti sono stati uccisi dalla picciotteria. Sono i primi martiri della Chiesa, questi due preti, ma soprattutto il secondo, perché il secondo è stato ucciso perché è andato in corte d'assise a testimoniare contro il mafioso che ha ucciso il primo prete. Quindi il secondo già sapeva di essere un candidato a morire. Ebbene, la Chiesa di Reggio Calabria, anche dopo che l'abbiamo scritto nel libro, nemmeno una messa in suffraggio, nemmeno una lapide di 20 centimetri, ha questi due martiri per mano mafiosa. Però non si era dimenticato di togliere la lapide alla Chiesa di Contrada Annà di Merito Portosalvo, dove c'era una targa così sconscritta, dono della famiglia Iamonte, una famiglia in dranga dai più potenti della Calabria. Ma poi l'hanno tolta. Allora, la storia è bizzarra, è fatta di tante omissioni, anche perché ricordatevi sempre che la storia è stata scritta e sarà scritta dai vincitori, perché chi perde è sempre brutto, sporco e cattivo, chi vince ha sempre ragione, era sempre puro, non aveva fatto nulla, nemmeno di violento, non aveva nemmeno ucciso. Ferlaino, questo lo leggo nel suo libro, parla un collaboratore di giustizia, dice Ferlaino probabilmente si opponeva alla degenerazione della struttura massonica, perché era Pino scrive, da l'organismo lecito a illecito. E poi più avanti lei parla, sempre nel libro si dice che qua su 32 loggie massoni ai tempi di Bernardo, quindi parliamo di una quindicina di anni fa, anche di più, vent'anni fa, 28 erano in mano ad Andrangheta. Sì, sostanzialmente io ho studiato, ho letto tutto il processo della morte di Ferlaino. Ferlaino era un massone, era un massone convinto e lui stava vedendo all'interno della massoneria una degenerazione della massoneria, infatti vede che corrisponde esattamente alla creazione della santa, cioè all'ingresso dell'Andrangheta nelle loggie massoniche deviate. E quindi lui si ribella a questo e incomincia anche sul piano ad investigare, incomincia anche a capire, andare oltre, perché si rendeva perfettamente conto cosa stava accadendo, si rendeva perfettamente conto che c'era, che stava iniziando una rivoluzione e un percorso nella sua testa per lui di non ritorno, perché lui da uomo intelligente, da uomo di legge, da uomo di esperienza, capiva che l'ingresso dell'Andrangheta nella massoneria deviata voleva dire iniziare a mettere un piede, iniziare ad entrare nella stanza dei bottoni, iniziare quindi una cogestione della cosa pubblica, una cogestione della pubblica amministrazione e quindi questo lo preoccupava, non so se lo preoccupava più da massone o da magistrato, però intanto lui era preoccupato, questa sua preoccupazione, questo suo agitarsi, questo suo essere fuori dal coro rispetto a tanti altri magistrati che erano massoni, non è che era solo lui massone, lo ha isolato, lo ha esposto, lo ha sovraesposto al punto che poi è stato ammazzato. Dottore, ieri abbiamo parlato, lei so che la conosce bene, di Duisburg ai dieci anni dalla strage, abbiamo parlato con un regista e con l'attivista, fondatore di un'associazione no mafia d'anche, no mafia d'anche, che ci raccontavano che la Germania continua a rimuovere questo problema, a parte la legislazione che non hanno loro la possibilità di intercettare. Può essere che noi da questo punto di vista, dico una banalità, siamo molto più avanti, poco fa il cornello Petrozziello diceva che solo in questi giorni in Gran Bretagna stanno entrando nelle misure di prevenzione patrimoniali, proprio in questi giorni, credo nei prossimi mesi, che riguarda la sproporzione tra i guadagni e le ricchezze. E gli inglesi, gli autori italiani si dicono, ma voi capite qualcosa? E noi italiani diciamo, certo che ne capiamo qualcosa, è da anni che ce l'abbiamo. Questo glielo dico anche rispetto al suo lavoro prossimo, l'incarico prossimo. Con tutto il rispetto che Petrozziello, io da vent'anni che vado in Inghilterra a parlare con gli inglesi. Allora, noi, io vengo spesso invitato nelle commissioni al Parlamento europeo e di fronte ho parlamentari, ad esempio tedeschi, francesi, e quando io spiego che lì c'è l'andrangheta, vedo questi parlamentari tedeschi che si agitano, si arrabbiano, gridano che non è vero che c'è la mafia. E ricordo una sera, non ero tanto di buon umore, e questo mi insisteva, e allora poi gli ho detto, sì onorevole, ha ragione, non c'è l'andrangheta in Germania, infatti la strage di Augsburg l'ho fatta io, e l'abbiamo chiusa così. Allora, in Germania, cioè noi abbiamo la legislazione antimafia più evoluta al mondo, sul piano normativo gli americani e i canadesi hanno in più, hanno una legislazione sui collaboratori di giustizia diciamo un po' audace, un po' più avanti. Ad esempio, qui in Italia quando una persona dice che vuole collaborare con la giustizia, noi lo chiudiamo in una cella, è stata sei mesi senza avere contatti con nessuno, nemmeno con i familiari. E quindi in questi sei mesi lui deve dire tutto quello che sa, e quindi ovviamente ci vuole un magistrato che conosce la sua storia criminale, quella dei suoi amici e quella dei suoi amici per fargli domande, se no lui non è che è capace di stabilire ciò che è rilevante, ciò che non è rilevante, ciò che possa vivere ai fini della costruzione dell'associazione di in quest'anno mafioso. Ad esempio invece l'America è esattamente l'opposto, uno vuole collaborare, ok, firmi un contratto e continui a fare il mafioso, continui a fare i trafficanti di droga, diventi un infiltrato, firmi un contratto, ogni tanto ti avvicina qualcuno e tu devi fare il report, ti reso conto di tutto quello che hai fatto e di quello che fanno gli altri, cercare all'interno di registrare, di investigare, di video filmare, fino a quando non si arriva a un punto morto e quello gli organizza il reato, dopodiché lo liberano, se non è mai un altro Stato, gli Stati Uniti sono molto grandi e quindi una visione opposta dell'impostazione sulla legislazione che riguarda i corpori di giustizia, ma sul resto, ma soprattutto sulle misure di prevenzione, abbiamo la legislazione più avanzata al mondo. Lei faceva accenno all'Inghilterra, l'Inghilterra è uno dei paesi dove è più facile riciclare in questo momento, dove non c'è assolutamente una legislazione che consente un controllo, infatti le prime volte che andavo a Londra vedevo qualcosa di strano, mi fermavo all'incrocio di una strada, dieci minuti, io guardavo, la macchina più piccola che passava era una BMW Serie 5, quindi era normale vedere Ferrari, Jaguar, Rolls, Porsche eccetera. Dico, ma se qui non c'è un pozzo di petrolio, non c'è una miniera di diamanti, com'è questo target? C'è un appartamento che costa dieci volte il centro di Milano, che costa dieci volte rispetto a Roma, che succede qua? Si fa riciclaggio, si fa riciclaggio perché c'è una legislazione che lo consente, non c'è assolutamente un'argine. Quindi purtroppo ai noi, l'Europa, la comunità economica europea, è un'Europa che si interessa solo di banche, solo di economia, ma non si interessa di sicurezza. Per loro il problema del contrasto alle mafie non esiste, perché loro pensano che le mafie siano gli sparelle serrande, le macchine bruciate, il morto a terra, non è quello le mafie. Le mafie italiane, soprattutto l'Andrangheta, in questo momento in Europa e in particolare da Roma in su, cosa fanno? Vendono cocaina e acquistano tutto ciò che è in vendita. Sono due tipologie di reato che non richiedono il morto a terra o gli sparelle serrande. Quindi l'opinione pubblica non si rende conto di quello che sta succedendo in quel mercato, non si rende conto di quanti soldi arrivano e vengono immessi nel mercato legale che fanno saltare le regole del libero mercato. Perché l'organizzazione criminale economica che compra un supermercato con i soldi della cocaina, gioca con un mazzo di carte truccate, perché gli altri quattro supermercati che ci sono in quel bacino di 50 km quadrati, per ampliare, per implementare l'attività commerciale, devono prestarsi soldi in banca. Lui non ha bisogno di prestarsi soldi in banca, perché lui ha dietro quella parete una stanza piena di euro e c'è un tubo catodico, un cordone americane, che fa arrivare quei soldi da quella stanza alla cassa. Quindi la cassa diventa uno scontrinificio dove noi battiamo scontrini, dove noi battiamo scontrini e dice sì ma se batti scontrini devi pagare tasse, certo. L'imprenditore è normale, cerca di pagare meno tasse possibili, l'imprenditore è mafioso, cerca di pagare più tasse possibili, perché più tasse paga, più fattura, più ha quel margine del 23-24% di guadagno che nessuno poi gli potrà toccare, nessuno è certamente la guardia di finanza, nessuno è misura di prevenzione, nessuno è misura di prevenzione, gli può contestare perché io ho venduto. Quindi false fatturazioni di acquisti e poi falsi scontrini di false vendite mi consentono di portare a luce del sole i soldi e quindi io mi posso poi comprare il SUV da 80.000 euro, la barca mare e l'appartamento per mio figlio a Bologna. ma se abbiamo una legislazione così avanzata perché, ma posso sbagliarmi, a un certo punto nel suo libro lei, nel vostro libro lei scrive, lo Stato però non fa abbastanza, se siamo così avanzati perché non facciamo abbastanza? Perché noi non abbiamo un sistema giudiziario proporzionato a questa realtà criminale, noi abbiamo la legislazione antimafia più evoluta al mondo ma siamo l'unico paese al mondo che abbiamo almeno 4 forti, 4 grossi mafie, ma il sistema giudiziario italiano non è proporzionato alla realtà criminale. Quindi stiamo, complessivamente stiamo pareggiando la partita. Non vinceremo mai così? Con quel sistema giudiziario non lo so se vinceremo però sento dentro che se ci fosse una volontà politica diversa potremmo farcela, è tutta questione soprattutto politica legislativa, cioè il legislatore che fa le leggi. Fare le leggi diverse nel rispetto dell'accusazione vuol dire cambiare le regole di ingaggio, cioè quando i militari vanno in un teatro di guerra il generale gli dà la guida, la linea guida, questo lo puoi fare, questo lo puoi fare, questo lo puoi fare. Se il generale gli dice tu non puoi sparare, lui ti spara, tu non puoi sparare, la guerra non vinceremo mai. E poi la regola di ingaggio che hanno i magistrati è quella che non possono rispondere nemmeno al fuoco? Rispondono col codice che hanno oggi, ma il sistema giudiziario che c'è oggi è faragginoso, è superato, non risponde alle esigenze del contrasto alle mafie del 2017, quindi ci vuole, ma per fare quelle modifiche, ad esempio che abbiamo pensato noi nella commissione, noi volgarmente diciamo ci vuole fegato, io dico che ci vuole fegato, milza e pancreas, solo il fegato non basta, è ovvio, ma in questo momento in Parlamento non è una questione di destra o di sinistra o di centro, non ci sono le maggioranze forti per fare delle cose importanti perché la storia ci insegna che il manovratore non vuole essere controllato, il manovratore non vuole un sistema giudiziario forte, il sistema giudiziario forte vuol dire che in 5-6 anni, in 10 anni tu puoi abbattere le mafie dell'80% nel rispetto della Costituzione, senza torcere un capello a un detenuto perché io sono assolutamente contrario a uno schiaffo in carcere e uno schiaffo in caserma, ci mancherebbe altro, io sono al rispetto delle regole perché se tu tocchi il detenuto tu fai il suo gioco. So che le chiedo uno sforzo di sintesi perché voi appunto le proposte che avete, che lei ha curato insomma nella commissione sono tante, ma se lo dovessimo spiegare a questi ragazzi quali sono le tre cose essenziali che potrebbero, le chiedo uno sforzo complesso. No, no, dico siccome sinora sono stato piombo, sono stato pesante, vi dico una cosa per tirarci un po' su, vi dico quello che è passato, una cosa importante che è passata dalla commissione che io ho preseduto, il processo a distanza, ogni giorno pensate che su 44 mila detenuti, 44 mila uomini della polizia penitenziaria, ogni giorno 10 mila di questi vengono utilizzati per fare traduzioni e trasferimenti, voi immaginate un detenuto a Tolmezzo che deve venire al processo a Catanzaro, ci vogliono 5 uomini con un furgone dato al mezzo all'aeroporto di Venezia o di Verona, poi aereo, poi furgone, poi il giorno dopo dal carcere di Siano al tribunale, tutto questo ogni anno costa 70 milioni di euro, voi immaginate con 70 milioni di euro quanti cancellieri e segretari si possono assumere e quanti uomini della polizia penitenziaria si possono assumere, ogni anno, ma poi voi immaginate 40 imputati per 416 bis o per 74 e immaginate che 30 di questi siano colpevoli, siano veramente trafficanti doc, voi immaginate 7-8 ore al giorno in udienza quanti affari, quante discussioni e quanti imbasciati possono mandare fuori, allora noi cosa abbiamo previsto? Abbiamo previsto che il detenuto sta a Tolmezzo e lui si collega in videoconferenza al tribunale di Catanzaro, anche se si deve separare con la moglie, il detenuto sta a Tolmezzo e la moglie sta al tribunale civile di Catanzaro e si separano in videoconferenza, voi immaginate se un avvocato di Torino o di Milano deve scendere a Catanzaro per il processo e lui deve fare una sola domanda di 10 minuti al suo cliente, lui può stare nel suo studio di Torino e si collega in videoconferenza col tribunale in udienza e sta a Torino. Voi inquiniamo di meno, risparmiamo 70 milioni di euro, possiamo assumere più personale per la giustizia, questa è l'unica cosa che è passata nella nostra commissione. Abbiamo modificato quasi 200 articoli, voi immaginate se fossero passate 50 di questi 200 articoli, vi dico una che servirebbe, voi sentite parlare spesso di prescrizione, si discute se la prescrizione deve decorrere dalla richiesta di rivia giudizio, dalla sentenza di primo grado, io mi rifiuto di fare queste discussioni, perché io sono allenato, sono abituato sempre a ragionare sulla causa, io mi devo domandare, non se la prescrizione deve decorrere dalla richiesta di rivia giudizio, dal decreto che dispone il giudizio, dalla sentenza di primo grado, no, io mi devo porre il problema per quale motivo i fascicoli di 10 anni fa sono fermi in un armadio del pubblico mistero, questo è il problema che mi devo porre, io uomo di Stato, io legislatore, io uomo delle istituzioni, non puoi andare a discutere come se fossimo al mercato sulla prescrizione, no, il cittadino ha diritto di avere risposte, soprattutto per i cosiddetti reati bagatellari, perché se io do oggi risposte a una signora per una truffa online, domani la signora mi denuncia un'estazione, domani la signora mi dà una notizia sull'attitante, se io do risposte, se io i reati bagatellari, quelli per reati comuni, li faccio prescrivere perché fermi nel cassetto, nell'armadio della procura, la gente non può avere fiducia in noi, perché noi non diamo risposte, perché io non mi devo preoccupare solo dei processi di mafia, non mi devo solo preoccupare del terrorismo, mi devo preoccupare del problema, delle minacce che il vicino fa alla signora e dove si discutono, perché se io non risolvo il problema del cancello, dopo due anni succede un omicidio per quel cancello, se io non mi preoccupo del contadino, perché la capra gli mangia il contadino esasperato ucciderà il pastore, allora devo intervenire anche su queste cose, quindi io devo avere un sistema attrezzato per risolvere anche i reati bagatellari, io insisto tantissimo in ufficio su queste reati, infatti stiamo togliendo un sacco di arretrato e allora anziché parlare di prescrizione, io sapete cosa avevo proposto? Avevamo proposto una commissione, voi immaginate qui tre giudici, è un processo dove già abbiamo sentito 40 testimoni, molti dei quali ufficiali di polizia giudiziaria, chi è stato trasferito a Torino, chi è a Verona, chi è a Modena, se uno dei tre giudici cambia, viene trasferito a Torino, lui viene trasferito a Torino, il giudice che prenderà il suo posto poi, noi dovremo far venire i 40 testimoni nuovamente, ricominciare da zero, nel frattempo il rinvio è a 6 mesi, 8 mesi perché il processo non è con detenuti, allora questa è la prescrizione, i reati si prescrivono per questi motivi e allora l'arte dell'avvocato qual è? Quando capisce che il suo cliente è colpevole, che c'è la prova, l'arte del suo avvocato è quello di portare a ogni udienza degli impedimenti legittimi perché è impegnato con un detenuto in un'udienza di convalida, a portare un certificato medico perché il suo cliente sta male, ha le coliche renali, però lui non era mai stato in udienza però quel giorno lui ci vuole venire, perché è una cosa importante e delicata, se non c'è noi abbiamo qui il testimone, una bella telecamera ad alta risoluzione dove si vede anche quando io gli faccio domanda se diventa rosso, se suda, se si agita, se si muove o sta bello tranquillo e sereno, allora il giudice che prende il suo posto va e si rivede i video, il processo va avanti, il testimone non deve tornare, deve tornare solo se il giudice che ha preso il suo posto, deve fargli domande inedite, ma intanto va avanti, voi immaginate risparmi di milioni di euro, il testimone che deve venire da Torino viene in aereo, albergo e ristorante, due giorni di lavoro persi, ma questo succede ogni giorno in tutta Italia e basta modificare un solo articolo e noi non dobbiamo ripetere tre volte gli stessi processi, ripetere tre volte le stesse cose, questi sono esempi di come l'informatica, la tecnologia applicata al processo penale rende un sistema reale e confacente alla contemporaneità, al 2017, perché l'informatica abbatte i tempi del processo, i costi del processo, il potere di iscrizione dell'uomo, quindi l'abuso, i margini di manovra, la stessa cosa l'informatica applicata alla regione, a un comune, voi immaginate l'assessorato all'agricoltura, c'è il bando perché stanno arrivando i fondi europei per migliorare l'attività dell'azienda, un contadino ha bisogno di un trattore, il trattore costa 100.000 euro, lui non ce l'ha 100.000 euro, però la comunità europea gli dà il 60% a fondo perduto, quindi capite 60.000 euro, importante, per lui già deve avere 40.000 euro e lui non ce l'ha 40.000 euro, allora firma le cambiali agricole, cambiali agrarie scusate, firma cambiali agrarie, ipoteca l'azienda, ipoteca la casa, perché lui spera che in pochi mesi la regione istruisce le pratiche e poi gli dà questi soldi, voi capite cosa vuol dire per questo contadino avere i soldi dopo tre mesi o avere i soldi dopo tre anni, vuol dire fallire, e qual è la differenza tra avere i soldi dopo tre mesi o dopo tre anni? La mazzetta, la mazzetta è la differenza, e allora la mazzetta come la evitiamo? Con l'informatica, online, voi immaginate invece di queste pareti un vetro, invece di queste pareti di mattone, un vetro dove io dal mio computer di casa posso controllare online, tutta l'istruttoria della mia pratica e di quella degli altri, partendo dal numero di protocollo, questo vuol dire trasparenza nella pubblica amministrazione e quindi evitare corruttele, regalie e clientele. Ho capito perché noi aspettiamo un sacco di soldi per dare la regione a Trame, allora a parte delle battute, stiamo facendo una battuta naturalmente, i tempi burocratici spesso sono veramente spaventosi. Parlava di verità, di efficienza, andiamo a chiudere, ci sono qua dei signori con una maglietta di Francesco Pagliuso, possiamo dirgli che avranno, riusciranno ad avere, sapremo su questo omicidio la verità, non ne posso chiedere cose di indagini, è evidente. Io questo non lo so se riusciremo a scoprire o meno questo omicidio, la cosa che posso dire che per questo omicidio il generale del 7 ha mandato appositamente 6 investigatori più il colonnello specializzato per crimini irrisolti. Grazie. L'ultima domanda, poi le chiederò soltanto di fare un saluto insomma a tutti il nostro pubblico e ai nostri ragazzi, fra 8-6 mesi forse ci sono le elezioni, se le offrono qualcosa, una candidatura, no non lo so, ma loro rispondono a loro, poi magari lei la pensa diversamente. Io ho un buon rapporto con la gente, io sono felice di essere procuratore a Catanzaro, credete, quando prima di venire, vi devo confessare, prima di venire a Catanzaro facevo, Catanzaro ma che padre, l'ho visto sempre come un posto, io 30 anni fa ero uditore giudiziario, ho fatto il tirocino a Catanzaro, per il carattere che ho io, che io non riesco ma è stare fermo, sono vulcanico, faccio 4 cose, 5 cose sempre nella stessa giornata, la mattina sono in ufficio, a mezzogiorno prendo l'aerio, vado a Roma, torno a luna, la mattina dopo in ufficio, giro sempre, no? Cerco di fare tante cose, di far funzionare, di far mandare avanti tanti progetti che ho in testa, tanti progetti, ma ovviamente quello principale è quello di cercare di fare bene il procuratore di Catanzaro, per questo sono pagato, però anche il resto è importante, credete, serve tantissimo, e allora io vi dico, prima di venire a Catanzaro, non avevo tutto questo entusiasmo a venire a Catanzaro, cioè non mi sembrava, man mano che ho iniziato e ho visto i riscontri, ho visto che questa procura sta crescendo e ancora c'è un potenziale enorme, non stiamo ancora lavorando a regime, anche all'interno della procura si può fare tantissimo, si può fare molto di più, ma capite che io ho fatto una rivoluzione mentale, quindi sono emozionato, eccitato, caricato come una sveglia, mi piace tantissimo, sono felice di essere a Catanzaro perché riesco a vedere i risultati e sopra di me non c'è nessuno, sapete perché la cosa più bella di fare il magistrato sapete qual è? In assoluto, se voi ci pensate, ogni mestiere c'è qualcuno che ti comanda, fare il magistrato la cosa più bella è che se vuoi sei veramente libero e io non riesco a capire i miei colleghi che appena vincono il concorso cercano, si fanno, non dico battezzare, ma cercano di fanno gli attivisti delle correnti, delle cose, io non lo so, ma avete questa fortuna di aver vinto un concorso bellissimo, emozionante, poteste essere liberi, certo vi costa, non avere una corrente dietro le spalle vi costa, e so io quanto mi è costato, ma ora che ce l'ho fatta da solo, che sono venuto a Catanzaro senza pagare i cambiari, ma voi capite quanto è bello, quanto io sono caricato. Ringraziamo il dottor Gratteri, lo ringraziamo per il suo lavoro. Manalaria, Manalaria...